Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, Mister Affitti Brianza e ti porto in visita in un immobile presentato dal manager dell'affitto Giuseppe Di Napoli. Ci troviamo a Senago in un trilocale che verrà consegnato non arredato. Ingresso, cucina abitabile, con un primo balcone, ampio e luminoso soggiorno con finestra e porta finestra che conduce al secondo balcone. Comoda, cameretta, bagno con doccia, e camera da letto matrimoniale con il terzo balcone. Per tutti i dettagli su questo immobile puoi visitare il sito www.linviate.soloaffitti.it e per la cultura dell'affitto visite il blog www.misteraffittibrianza.com Solo affitti, affittare con sicurezza.